Buongiorno a tutti, mi cari, come state? Spero di cuore che state tutti bene lì dove siete. E' iniziato la primavera, oggi siamo 9 di marzo, auguri per tutte le donne come c'è stato ieri la festa delle donne, oggi la festa di papà, auguri per tutti i papà al mondo, auguri per la primavera ragazzi, e auguri per voi tutti che mi fate seguendo. Oggi sono entrata a farvi un po' di lettura in le tazze e le piatti così, no? Con il caffè, scusate, per l'energia di questo mese, diciamo, no? L'energia di mese di marzo, ma si tratta solo di amore, parliamo un po' di amore, no? Vediamo che succederà con il vostro amore a fine di questo mese. Non dimenticate che è una lettura generale, giustamente, né una lettura personalizzata, per letture personalizzate sapete che mi dovete cercare tramite Whatsapp. Dicendo questo inizio con Pimod, vedete? Questa è la prima variante, questa è la seconda, no? Facciamo così, in due variante. Io inizio giustamente con prima variante, ma prima vi faccio estragere un'energia delle mie bellissime carte per vedere come state in amore, perché è una lettura generale per amore, vediamo un po' in vostro amore che succede, no? Che vi dice una carta. Qua avrete successo tante persone in amore, in caso in quale siete in coppia, insieme, mi sa che questo mese fate un cambiamento per stare insieme, vi fate postare uno in casa di altro. In caso in quale siete sposati, io vedo che avete un piano ben preciso del dinaro per comprare una cassa. In caso in quale lui è andato via, io vedo che forse è andato a lavorare all'estero, io vedo che lui ritorna, ti prende e ve ne andate insieme a fargli un futuro. È un'energia bellissima, un'energia di dinaro, di successo e in amore. E iniziamo a mettere caffè qua, per vedere per voi tutti di prima variante, che vi vuole dire il mio caffè. L'energia di questa bellissima lettura, diciamo così, no? Vediamo. Come vi potete guardare qua di prima, è uscito un bellissimo pesce. Vedete, avrete fortuna di dinaro, le persone con l'iniziale di A, le persone con l'iniziale di T, le persone con l'iniziale di R. Arriva fortuna di dinaro nella vostra casa, nella vostra famiglia e sarate contentissimi, no? In altre cose, qua mi esce una donna che sta bailando, guardate, vedete come baila, bellissimo, no? Avrete probabilmente le donne che ha festeggiato la festa di donne, diciamo così. De noi io vedo qua una festa. Ve ne andatela una festa, ok? Qua è Manu, ci avete un fiore che vi lo regala un bel uomo. Vuole dire un inizio di un nuovo amore, in caso in quale siete con l'iniziale di C, l'iniziale di A, l'iniziale di L. Vi innamorate di nuovo, vostro cuore inizia a battere di nuovo per una persona che trovate a una festa. Andatela a una festa, una discoteca, una festa in qualche parte e trovate questo uomo che vi sta invitando a bailare e iniziate un bel rapporto. Qua purtroppo tante persone ci avete insidia in amore, vedete questo cane che sta con testa in giù, quella vuole dire non mai ci avete fiducia, no? Perché cane non è avanti, indietro, vuole dire che persone con l'iniziale di O, mai mi esce un M, mai mi esce un S, vi esce che vi siete persi la fiducia in amore perché siete stati traditi o tradite e non mai ci avete fiducia. Non volete ascoltare di nessuno. Qua ci avete persone che vi sta seguendo della umbra, che vuole dire ci avete le persone, vedete questi occhiali, ok? Persone che sono con occhi su di voi o può essere anche mal di occhio, no? Che sono persone false, sono tipo gattini, ma gattini tipo falsi, no? Non sono gatti di questi che sono dolcissimi, no? Sono gatti falsi, vuole dire che persone false che stanno fingendo che sono amici, però invece non ci sono amici, attenzione massima. Qua mi esce giustamente un nuovo inizio dell'amore, un pacificazione con una persona con l'iniziale di B, una persona con l'iniziale di R, di A, di C, di M. In cinque punte può stare cinque giorni, cinque settimane, cinque mesi, vi esce un pacificazione, ma non sono cinque mesi che sono cinque ore, cinque giorni o cinque settimane. Vi pacificate in caso in quale adesso siete in litigo, diciamo che non state bene, siete litigati, avete un confronto di parole brutte, io vedo che prima un po' vi pacificate, ok? Dopo tante notizie, in amore, tanti regali, vedo tanti fiori, probabilmente anche altre cose, però a me mi esce tantissimi fiori, no? Le donne che sono felici, qua vi esce anche un anello, una fede per le persone con l'iniziale di F, vi esce questo bellissimo anello che vuole significare un nuovo inizio di finanziamento o può stare che vi chiede mano per sposarvi, no? Dopo vi esce anche un bellissimo arcobaleno, tutto ciò che ci è stato male su di voi, diciamo, un po' di disfortuna e in amore, guarda che il 12 di marzo se ne va via e tutto andrà bene. Vi si sta trasformando in realtà anche un bellissimo desiderio, in caso con questa bellissima farfalla che si può vedere qui, in caso in quale volete rimanere incinta come donne, io vedo che massimo in tre o quattro punti, che può significare tre o quattro giorni, tre o quattro settimane vi uscirà questo bello desiderio, un altro desiderio a pacificarvi con una persona che voi lo avete in cuore, anche questo fine di questo mese si sta trasformando in realtà. L'uscita bella? A vostro piatto? Vi ho detto non per tutti può essere vero, allora facciamo anche seconda, invitiamo anche una bellissima energia anche per voi, per la seconda variante, vediamo un po' che vuole dire per seconda variante. Per la seconda variante, attenzione massima che ci avete in amici, vedete la vepera, ci avete un po' di energia un po' dura su di voi, ci avete le persone che non sono buone, no? O può essere in amore che qualcuno è come una vipera con voi, che è donna, che è uomo, è come un serpente che voi lo aiutate quando non vi aspettate, vi sta mordendo. La carta vi sta avvertendo che dovete stare attenti, è vero che vi esce qualche sette persone in gamba, sette persone equilibrate, sette persone forti, però vi sta uscendo che la vostra relazione è in pericolo, no? Può essere in pericolo perché la donna, in caso in quale si tratta di donna, diventa furba, o può essere in pericolo che anche l'uomo può diventare furbo, no? È un avvertismento, diciamo che vi sta avvertendo perché si può succedere chissà chi, vediamo anche per voi la seconda variante che vi sta uscendo in amore. Purtroppo qua è una sofferenza con questa croce, guarda qua, o sette malati o è un amore malato, diciamo così, a parte per le persone con iniziala di F, di L, di I, perché qua è un core su nero, vedete qua, vuole dire che o è una relazione toxica o è una relazione con la malattia, sette malati per quella persona può essere un'ossessione, un'dominazione, no? Un amore un po' malato, diciamo, può essere anche un amore strano, diciamo, no? Strano, se avete un tipo di amore così dovete lavorarci sopra per cambiarvi carattere. Qua riesce un brutto serpente, vedete in caso in quale voi già ci avete litighe, ok? Con questa cosa nera già litigate tanto, sapete che su di voi c'è un'energia nera, un'energia di fregvenza giù perché qua c'è problemi. Diciamo che siete insieme di due o tre anni, io vedo qua problemi, delle litighe, questo serpente che è entrato in tra voi può essere da parte di lui, la sua mamma o la sua sorella, o una iniziala di L che si intromette in vostra relazione e vi sta facendo problemi. Io vedo qua una coppia che già vive insieme e qualcuno della famiglia di lui si mite bastone in tra rotte o fa l'energia negativa perché non lo sopporta la ragazza. Qua mi esce una grande, vedete, una grande in caso in quale sette sole, trovate un personaggio con iniziala di A a fine, la fine di questo mese, però non sarà bene, dovete stare attento con questo personaggio perché la inizio sta fingendo che è una brava persona e dopo vi trovate da fronte con una persona un po' fuori da normale, anche questa o fa uso delle sostanze o c'è qualcosa che non torna con questa persona, attenzione massima per chi vi innamorate come vi innamorate, ok? Qua vi esce un segnale, attenzione che vi esce un tipo di malattia, un affreddamento, non lo so dove andate, andate la montagna, andate un po' così, vi prende un po' di fresco, io vedo che sette insieme, qua esce una coppia di finanziati, per una iniziala di P, una iniziala di C, un'altra iniziala di R, attenzione massima per un affreddamento. Qua vi esce un confronto brutto con qualcuno, in caso in quale avete gelosia in coppia, io vedo che a fine di fine di questo mese vedo le botte, vi picchiate anche, una relazione brutta con picchiamenti, piuttosto la donna è un po' più, diciamo così, però anche uomo alza le mani, qua è una relazione con le mani che si alzano, non va bene. Dopo qua, una stabilità in amore, io vedo un passo avanti, tante persone qua vi volete sposare, avete una stabilità in tre punti, vi esce una bellissima cosa, iniziala di N, iniziala di A, giustamente un G, giustamente un D, persone con questa iniziale che volete farvi un matrimonio e io vedo che prima un po' riuscirate, anche in questi tempi è difficile con soldi, perché qua vedo che avete un po' di problemi economici, però io vedo che altre persone vi stanno prima un po' aiutando. Qua vedo una candela, la vostra fede, l'amore, qua vedo anche le cose che si muovono piano, per ogni di voi, ma prima un po' si aggiustano, giustamente che mai vedo anche qua un anello ruto, probabilmente un finanziamento, un matrimonio che è saspezzato, per le persone con iniziala di T, di S, di U, però io vedo un inizio di un nuovo amore con un'altra persona, qua esce un scoiattolo, guardatelo che si può vedere chiaro, un amore con fortuna vi uscirà, qua insieme sono tante persone che fate le avventure, non volete una relazione seria, fate le avventure, qua siete sul segno di acquario, vi si sta trasformando un desiderio in amore, qua mi esce anche il segno di toro, che avrete un po' di problemi, di litighi e di confronti, purtroppo nelle persone qua in questa lettura siete caricati con un tipo di energia un po' malina, diciamo così, però vi si sta trasformando un desiderio, quelli altri desideri sono in aspettare, si deve aspettare, questa c'è stato anche per seconda variante, spero che vi è piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi like, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un commento sotto di queste cose, spero di cuore che avrate tutti una primavera meravigliosa, insieme ai vostri cari e ai vostri familiari, spero di cuore che vi trovate tutti, che non avete la pace, vi trovate la pace, vi trovate la luce, vi trovate la vostra serenità, vi voglio tanto tanto bene, vi abbraccio e vi auguro tante belle cose.